Sono due le indagini che hanno portato oggi ad Imperia alle nuove perquisizioni nella villa e nell'ufficio dell'On. Claudio Scaiola. La prima, che segue una perquisizione già effettuata nelle scorse settimane, è stata disposta dalla Procura d'Imperia, in particolare dal sostituto procuratore Alessandro Boiolo. Gli agenti della Polizia Postale, con il supporto di Guardia di Finanza e Polizia Municipale, si sono presentati questa mattina presso l'ufficio, in Viale Mateotti e nella villa sulle alture d'Imperia. Tutto ruota intorno ad una transazione relativa ad una promessa di vendita di una porzione di uno studio presente sotto i portici di Oneglia di proprietà della moglie dell'ex ministro. La seconda indagine, invece, coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro della Procura di Savona, è di tipo del tutto diversa e riguarda il possesso di un'anfora detenuta nel giardino nella villa. Il reperto archeologico è stato sequestrato dai carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Savona. L'onorevole Scaiola, a giustificazione del possesso da una quindicina d'anni dell'anfora, ha prodotto un'autorizzazione che avrebbe ricevuto dalla sovrintendenza dei beni della Liguria. Grazie. 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 Grazie.